Amici carissimi, oggi vediamo un attimo la 4060, perché l'altro ieri sono uscite le recensioni da ieri già sono probabilmente disponibili sul mercato le prime custom e capiamo un attimo, è una buona scheda, è una scheda che fa pena chi dovrebbe acquistarla, chi non dovrebbe acquistarla e il discorso è un po' lungo e tortuoso, quindi non vi perdete il video fino alla fine raga, ma che le facciamo a fare le build se poi nemmeno la chiave di Windows 10 originale ci compriamo? quando oggi fondamentalmente una chiave di Windows costa veramente poco un sito affidabilissimo è ad esempio il nostro sponsor, Ukiis dove potete trovare chiavi di Windows 10, chiavi di giochi, un sacco di cose e soprattutto in sconto, perché grazie al codice MHD voi potete portarvi a casa Windows 10 Pro che costa 20 euro, lo pagate 15 euro oppure se voi avete Windows 10 Home sul sito lo trovate a 17 euro codice sconto MHD voi a casa ve lo portate a 13 euro non state là a sbattervi con l'Office 365 che ogni anno dovete pagare Office 2019 Professional Plus ad esempio su Ukiis costa 55 euro, pagamenti sicuri con Paypal la chiave vi arriva direttamente sulla vostra mail la inserite, attivate il vostro Windows o il vostro Office ed il gioco è fatto ragazzi ciao ragazzi come sempre bentornati in un nuovo video bentornati su MV Hardware vi ricordo di iscrivervi al canale ci mettete due secondi a voi non vi costa niente è molto importante invece per me invitate una grossa mano a crescere 40-60 partiamo subito c'avevo ragione io e ovviamente ci azzecco sempre perché in fase di prelancio si diceva che questa scheda doveva arrivare alle prestazioni di una 30-60 Ti alle prestazioni di una 30-60 Ti non ci arriva ma vediamo un attimo le specifiche che già conosciamo spoilerate ormai da mesi e mesi parliamo di un chip con 3072 CUDA Core che per quanto possono sembrare tanti raga in realtà non so niente rispetto alle altre schede rispetto a modelli superiori come la 40-70 la 40-80 abbiamo 24 RT Core e 96 Tensor Core tutto su architettura Ada Lovelace e abbiamo 8 GB di RAM GDDR6 l'unica cosa positiva di questa scheda sarebbe cioè parrebbero lì frequenze 2460 di boost clock diciamo base poi alcune custom arrivano anche di più ma fondamentalmente poi in quelle che sono le performance non è che questi 2460 MHz siano poi così fondamentali parlando delle performance vi dicevo questa è una scheda che non arriva nemmeno alle performance della 30-60 Ti perché se voi ci fate caso in tutti i test tutte le recensioni ad esempio qui abbiamo Tech Power Up vedete che la 30-60 seppur di poco la 30-60 Ti ha sempre e comunque un piccolo margine di vantaggio su questa 40-60 il confronto interessante ovviamente è sulla stessa fascia quindi sullo stesso modello precedente che è la 30-60 e in 1080p c'è sicuramente un incremento delle prestazioni che poi come vedremo alla fine parliamo del 15-16% di prestazioni in più in 1080p già se andiamo in 1440p e parliamo di pura rasterizzazione qui stiamo parlando semplicemente di raster senza RT senza DLSS in 1440p la 40-60 perde sempre qualcosa rispetto alla 30-60 Ti e la 30-60 liscia recupera anche un po' in performance perché a 12GB di RAM su una serie di giochi i 12GB tendono a dare un piccolo vantaggio quindi anche il 1440p non è una scheda che ci fa impazzire Nvidia dichiara la 40-60 come una scheda ideale per il Full HD e per esempio in performance relative quindi alla fine della fiera vediamo che non è una scheda che ha tutto questo salto generazionale rispetto ad una 30-60 vecchia siamo nell'ordine della 7600 da 8GB in pura rasterizzazione abbiamo schede come la 6700 6700 XT 6800 liscia che vanno abbastanza più forte e oltre vabbè ad avere dei tagli di giga differenti quando poi si tratta di ray tracing noi sappiamo che ovviamente Nvidia in questo caso è parecchio superiore rispetto agli stessi modelli delle stesse fasce ma anche il ray tracing non è che noi abbiamo tutto questo incremento di performance gli RT core di nuova generazione danno un vantaggio rispetto alla vecchia 30-60 ma comunque in performance relative quindi in una media dei principali giochi la 40-60 liscia va meno della 30-60 ti infine l'unica nota realmente positiva di questa scheda è effettivamente il ray tracing accoppiato con il DLSS perché voi sapete che grazie alle 4000 voi avete l'opportunità oltre di attivare il normale upscaling ovvero il DLSS 2 chiamiamolo così abbiamo poi il frame generation e come potete vedere in 1080p si passa da una media di FPS nativi come Cyberpunk Hogwarts Legacy che sono intorno ai 50-60 FPS ha dei buoni 80 FPS attivando il DLSS per poi raggiungere anche i 120 FPS attivando in combinazione DLSS più frame generation l'unica cosa positiva di questa scheda l'unico punto a favore è che su una scheda del genere il DLSS 3 vi da una mano e salite con gli FPS il problema qual è? che comunque parliamo di 1080p quando attiviamo il DLSS 1080p ragazzi non è proprio eccezionale come qualità dell'immagine quindi su questa cosa ci torneremo perché va bene fare una campagna diciamo marketing e pubblicitare io sono stato il primo ad ammettere che il DLSS su schede video superiori come la 4070 4070 4080 lavora in maniera eccezionale questo è vero ed è stato migliorato tantissimo ma quando scendiamo di fascia e quando ci ritroviamo su schede del genere già di per sé poco potenti e il DLSS non è lo strumento perfetto il frame generator generation mi brogio sempre non è lo strumento che vi cambia e vi fa miracoli e non è tutto oro quello che luccica quindi su questa cosa poi ci torneremo in definitiva non è niente di eccezionale questa scheda non è per me una scheda che sposta il mercato della fascia bassa in maniera particolare lo vediamo da questa semplice slide a me piace molto fare i riferimenti anche con le passate generazioni dove voi vedete che c'è stato un salto importante dalla 960 alla 1060 con un 70% in più di performance anche la 2060 l'RTX quando è uscita sul mercato aveva più del 50% di performance in più rispetto alla vecchia 1060 con la 3060 Nvidia è iniziata a rilassarsi ok perché veniva da un periodo dove erano uscite schede come appunto la 2060 2060 Super 1660 1660 Super 1660 Ti quindi la fascia bassa era satura molto satura e con la 3060 già il vantaggio era ridotto ad uno scarso 20% ma i 12GB di VRAM ne hanno fatto comunque una scheda molto acquistata sia in ambito gaming che comunque in ambito produttività oggi ci troviamo con una RTX 4060 da 8GB che ha a scarso un 15-16% di performance in più rispetto alla vecchia 3060 mantiene 8GB di VRAM e quindi capite che non è questo grossissimo salto generazionale che in fin dei conti tutto viene solo ed esclusivamente poi alla fine ridotto a utilizzo DLSS3 e utilizzo frame generation quindi a parte il prezzo che comunque è un prezzo normale per una 60 perché già dalla 1060 da 6GB i prezzi erano ormai intorno alle 300 dollari MSRP poi sono aumentati un pochettino con la 2060 se non mi sbaglio ma questa scheda che attualmente si trova intorno alle 299 dollari MSRP in Italia la dovremmo vedere intorno alle 330 euro ha un prezzo decisamente in linea quindi già questa è una grande cosa ma ha delle performance che fondamentalmente non sono una cosa che ci fa gridare come vi ripeto alla regina della fascia bassa in questo momento chi dovrebbe acquistare una scheda video del genere e Nvidia fondamentalmente ha ragione quando dice che questa è una scheda ideale per un upgrade da generazioni precedenti voi sapete che oggi il 1080p è ancora una risoluzione molto utilizzata e che tante persone utilizzano schede anche più datate come la 2060 come la 1660 come la 1066 6GB certo chi ha già un pc oggi di fascia minore con una 1660 o anche chi tiene magari una 1050 ti per farvi capire c'è gente che ancora gioca con queste schede potrebbe considerare sicuramente un upgrade a 300€ se questa scheda a breve arriverà intorno alle 300€ con una 4060 perché è una scheda che consuma niente parliamo di 110W a 8GB di VRAM che 1080p possono essere abbastanza non costa tantissimo ma chi oggi fa un pc da zero e anche sulla fascia minore quindi parliamo di pc di 800 850 euro può trovare un po' di alternative che magari gli danno qualche boost in più o magari sicuramente sarebbe il caso di andare ad investire quei 100€ in più 120€ e puntare già ad una 4060 Ti quindi capite che è una scheda che fondamentalmente non ci sposta più di tanto la situazione sulla fascia bassa dove abbiamo una marea di schede tutte diciamo abbastanza decenti partendo dalla 6600 alla 7600 alla 6750 XT e oggi si aggiunge anche la 4060 che fondamentalmente non è malvagissima come scheda ma è una scheda che non cioè voglio dire non la non la trovo una una scheda che distrugge completamente il 1080p perché da oggi in avanti usciranno dei giochi sempre più pesanti e quindi io ho dei dubbi sulla durata di una scheda video del genere in un pc di fascia bassa tra l'altro alcuni giochi saranno pure su FSR2 quindi partner AMD abbiamo tante alternative per fare il pc e lo vedremo però a me sinceramente come vi ho sempre detto dal primo giorno quando ho visto le specifiche di 4060 Ti e 4060 sono schede buttate là per darvi un refresh per darvi qualcosa di nuovo ma non sono schede all'altezza secondo me del passo generazionale che c'è stato con le 4000 in generale quindi questo ve lo devo dire speriamo che il prezzo cali perché sotto le 300 euro potrebbe veramente essere diventare interessante e potrebbe diventare anche un best buy no? se voi fra sei mesi sta scheda la trovate a 250 euro e là c'è da ragionare in maniera diversa ma a oltre 335 euro io la vedo troppo vicina al prezzo attuale di una 4060 Ti più economica che è di circa 430 euro e la cosa si fa un po' difficile fatemi sapere come sempre voi cosa ne pensate qui sotto con un commento io vi ringrazio vi do appuntamento in un prossimo video e sicuramente la vedremo all'opera in un video dedicato soprattutto lato DLSS ok? quindi non vi perdete i prossimi video ciao ragazzi e grazie per essere stati qui con me ciao